Richiamare l'attenzione dei più giovani sui temi della difesa del dissesto idrogeologico, della valorizzazione della corretta gestione delle risorse idriche. Con questo obiettivo l'URBER, che è l'Unione Regionale delle Bonifiche dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con tutti i consorsi di bonifica della Regione, ha indetto il concorso Acqua e Territorio, giunto ormai alla sesta edizione. E che l'iniziativa sia stata un successo, lo dicono i ragazzi che oggi sono qui a Piacenza, sono circa 400, ma ben di più, sono quasi 3000 quelli che hanno partecipato. E qui a Piacenza oggi vengono incoronati i vincitori. E voi ragazzi intanto quanti anni avete, di che scuola siete? Ho 10 anni e vado a scuola di Ponte Nure. Ponte Nure, quindi la provincia è quella di Piacenza. Che classe fate? Quarta A. E cosa avete fatto per questo concorso? Avete studiato un po', non ditemi che nessuno mi sa rispondere. Ah, ecco. E cosa avete fatto? Avete scritto, avete fatto fotografie, che cosa avete fatto? Cosa avete imparato soprattutto? Abbiamo fatto un video. Avete fatto un video, una cosa difficilissima. Sì, su... Su, 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 su. Sullo spreco dell'acqua. Sullo spreco dell'acqua, ma voi l'acqua? Non bisogna sprecarlo. Ma voi l'acqua state attenti a casa, adesso magari a mamma e papà glielo dite. Quindi come si fa a non sprecare l'acqua? Quando ci laviamo i denti, mentre ce li spazzoliamo, chiudiamo il rubinetto. Bravissimi. Quando ci insaponiamo, chiudiamo la doccia. Bene. E quindi, insomma, sono piccoli accorgimenti fondamentali per risparmiare l'acqua. Se bisogna usarla per innaffiare i fiori o le verdure. Quindi l'acqua si può anche recuperare. Se qualcuno si è dimenticato di chiudere il rubinetto, lo chiudiamo noi. Ragazzi, complimenti, buona giornata e noi proseguiamo con il nostro giro. Ciao! Ciao! Forza Bonifica! Forza Bonifica! Forza Bonifica! Intanto ovviamente però qui in Piazza Cavalli c'è ancora tanto da imparare. Grazie a Bonifica Lab, la scienza in piazza, piccoli laboratori per piccoli ricercatori. Elena Maffini, il mondo in una goccia d'acqua. Allora, che cosa c'è in questa goccia d'acqua? Un mondo davvero? Sì, esattamente un mondo. Allora, abbiamo preparato un infuso, semplicissimo da preparare, con dell'erba secca e poi lo abbiamo lasciato per qualche giorno. E si vedono tantissimi animali, che normalmente noi penseremo l'acqua pulita, invece nell'acqua ci possono essere tantissimi organismi, sia animali che vegetali, e formano una catena alimentare che continua ad alimentarsi da sola, insomma. Queste sono piccole magie, poi magie non sono, della scienza che però riescono ad affascinare. Certo, infatti all'inizio erano un po' timorosi, ma adesso sono tutti pronti ad avvicinarsi al microscopio e a guardare. E a guardare questo mondo. Chi di voi ha già guardato? Tu hai già guardato. Cosa hai visto? Hai visto qualcosa? Sì! Sì, no, forse. È un'esperienza che avevi mai utilizzato, spostati un pochino che così ti si vede meglio. Avevi mai utilizzato un microscopio? No, mai. No, ed è stata un'esperienza particolare. Cosa ti aspettavi di vedere? Che cose in realtà hai visto? Non è semplicissimo le prime volte, vero? Cioè, mi aspettavo di vedere cose piccole, invece col microscopio si ingrandiscono. Voi avete già guardato? Sì, sì, tutti. Che impressione ha fatto? Scoprire che cosa c'è in una goccia d'acqua? È un'impressione un po'. E vedere degli organelli che vanno in giro per l'acqua? Ce ne sono tanti. Voi avete lavorato anche a scuola, siete qua per il concorso, per la premiazione. Voi di dove siete intanto? Di Carpanetto, Piacentino. Ecco, quindi provincia di Piacenza. E a scuola cosa avete fatto? Abbiamo fatto un video dove parlavamo dell'acqua. Avete imparato delle cose nuove che non sapevate, non immaginavate neanche lontanamente? Sì. E questa acqua da mangiare? E abbiamo fatto delle ricette anche, come la mortellina e i bisari e i fasi e abbiamo spiegato che anche nelle cose che mangiamo c'è... Quindi l'acqua non solo da bere, è fondamentale anche per il cibo. Elena Moggi, insegnante della scuola media di Carpanetto, Piacentino. Allora, questo progetto, questo concorso, acqua da mangiare, quanti spunti ha dato ai ragazzi? Eh, parecchi. Abbiamo... hanno lavorato molto. È stato dato il titolo, abbiamo lavorato con la modalità brainstorming. E da questo poi è nato tutto il progetto, l'attività, come realizzarla. È venuto un bel lavoro, insomma. Hanno lavorato, hanno partecipato, sono stati molto attivi. E quindi, insomma, è una bella soddisfazione. E hanno imparato anche tante cose, perché magari si sono allargati quelli che sono gli argomenti che vengono normalmente affrontati a scuola con degli spunti in più. Esatto, perché l'importante è sempre far fare ai ragazzi se uno vuole fare apprendere. Volevo sapere, da te dove ti trovi in questo istante? Se sei con noi in piazza, perché non ti vedo, o da qualche altra parte della città? Interrogativo. Allora, mi vedi qui è sempre Italia 4, Uniform Webber, Romeo e Tullio. No, sono in città, ma vicino al Grazie Cielo dei Mille, praticamente nella mia zona, in situazione fissa. Non sono in piazza. Va bene, copiato il tutto. Io adesso spiegherò un attimo, in due parole, che cosa ci siamo detti, perché a volte sembra di parlare un po' criptato. Italia Zulu 4, Romeo Eco Golf, chiude qua per un momento. Cosa è successo? Che ci siamo detti la nostra sigla, adesso a prescindere che io lo possa conoscere o meno, però, dicevo prima, in base alla sigla io so da dove più o meno chiama, ed eventualmente gli dico o gli chiedo informazioni, gli do o gli chiedo informazioni. Quindi non pensiamo soltanto alle emergenze, meno male non ci sono sempre. E vi ho detto, noi funzioniamo anche con una batteria da auto o da moto, e riusciamo a parlarci. Il discorso è che comunque ascoltiamo e parliamo con altri, cosa che non sempre si fa. Io mi intrometto un attimo, lei giustamente ha detto, noi parliamo non solo quando c'è l'emergenza, ma quando c'è l'emergenza voi siete fondamentali. Sì, noi, dicevo ragazzi, purtroppo, per fortuna, speriamo non troppo spesso, siamo chiamati nella sala radio, la cosiddetta sala delle emergenze della prefettura, perché le nostre radio, comunque le nostre conoscenze sulle radio, ci permettono di comunicare e di mettere in comunicazione le varie forze, sia di polizia, che dei vigili del fuoco, che della sanità. Massimiliano Pedersoli, presidente dell'Urber, allora, questa iniziativa, questo concorso, che ha coinvolto quasi 3.000 ragazzi, 400 oggi qui a Piacenza, un'iniziativa, tra l'altro, va ricordato che ha avuto il sostegno della regione Emilia-Romagna, dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna, ha fatto passare, se così si può dire, un messaggio importante. L'acqua, un bene prezioso, non va sprecata e l'acqua però si mangia anche, non si beve solo. Sì, l'acqua è fondamentale, l'irrigazione è fondamentale per l'agricoltura, è una precondizione. L'Emilia-Romagna è la patria delle DOP, delle DOCG, degli IGP, insomma, chi più ne ha più ne metta. Ecco, noi abbiamo, ormai da anni, ma l'iniziativa di oggi, devo dire, magari detto da me di parte, ma molto ben riuscita, vuol fare passare appunto questi messaggi sulla cultura dell'acqua, sulla cultura anche del risparmio, della tutela della risorsa idrica, così come la cultura del territorio. Io ho detto all'inizio ai ragazzi, bisogna voler bene al nostro territorio, perché il nostro territorio è come casa nostra. Se vogliamo bene alla nostra casa, dove abitiamo tutti i giorni, così il territorio è la casa di tutti quanti. Quindi collettivamente, insieme, come si dice, dobbiamo avere una grande attenzione al nostro territorio. Io credo che l'esempio di questi ragazzi sia eclatante. Sono attori molto attenti. Investire con loro è un grande investimento. La consapevolezza nostra, che è una strada obbligata, ci è venuta da un po' di tempo e va nella direzione che dicevo prima, cioè si vince la battaglia nella prevenzione. E l'investire nella cultura dei ragazzi è la strada, è il percorso corretto. Un'altra cassa in pezzo! Un'altra cassa guerra di ci Hani è la strada, è il percorso correttto. Grazie a tutti.